Ciao Marco, ciao, eccomi, sono Alessandra Carnevali di Blogosfere, è sempre lì, ma sai che c'è, che sul mio blog, non so se tu lo conosci, sei votatissimo, quindi per me è doveroso, passi complimenti, anche perché sei molto simpatico, oltre che bravo. Ti vorremmo chiedere, qual è il tuo rapporto con internet? Lo frequenti spesso? Beh, è molto a periodi, però io adoro internet, adoro il pc, adoro usare tutte queste cosine molto tecnologiche, esatto, il computer ho cominciato a usare quando avevo sei anni, internet è una bellissima invenzione, è un'arma a doppio taglio che dovrebbe essere usata solo per spocchi, spocchi, scopchi, scopchi positivi. Quindi l'ho usa tanto comunque, scopchi, scopchi.